Non sai, i sacrifici che ho dovuto fare per quei due ragazzi. No, posso immaginare. No, non puoi. Io sono Leon Persi, un attore di un certo livello. E su questo penso che ci siamo capiti. Alla perfezione. Eppure, per mantenerli... Sì? ...zombi. No! Sì. Mi dispiace, Leon. Film di zombie. Decine di film di zombie. Film di Leon Persi. E ho lavorato con Stanley Kubrick, costretto per mantenere la famiglia a vari film di zombie. Chissà quanto avrai sofferto. Le pene dell'inferno. Ma è un uomo, è un uomo anche in queste circostanze. E Leon Persi, oltre che essere Leon Persi, è anche un uomo. Carica con quella maionese all'aglio. Maionese all'aglio, vieni. Tutta quella che vuoi. Il punto più basso lo raggiunsi... Basta. Basta. Lo raggiunsi con il film Zombies Forever. Indoregista ammalato di mente su delle spogliare liste zombie. Si rivoltava lo stomaco a ogni Chuck. Ma papà lo fa per voi. Solo per voi. Mi ripetevo continuamente nella testa. E che parte faceva? Il presentatore zombie delle spogliare liste. Mi sembra una bella parte. Oh sì, forse la più lunga che io abbia avuto. E... Com'era il personaggio? Zombie. Si è un stravazio. E se il tuo cuore dei spogliare. E se il cuore dei spogliare. Voila! A 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